Domani ultima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi a Terra Nuova e sarà un incontro importante e di rilevo, quello a cui assisteranno gli alunni delle terze medie e dell'Istituto Comprensivo. Purtroppo anche a male in cuore lo dico perché è stato un anno bellissimo. Domani noi ragazzi del Consiglio ci ritroviamo in aula consigliare per discutere insieme alla Polizia di Stato che andremo anche a conoscere di cosa si occupa e andarla a contraddistinguere dagli altri forze armate e le altre istituzioni dei social network e di conseguenza sarà un grande onore ospitare il questore Mancini Proietti e sono felice dell'incontro di domani perché parteciperanno anche tutte le terze e di conseguenza sarà un incontro che andrà a arricchire il nostro bagaglio ultirale di tutti quanti e quindi un bel evento veramente. Domani avremo anche la possibilità di parlare insieme alle forze armate dei social e dobbiamo imparare anche a usarli in modo migliore perché fanno parte della nostra vita. Un anno proficuo di lavoro che si conclude dunque per questi ragazzi all'insegna dell'attualità più stringente. Gli argomenti trattati sono stati molteplici ed interessanti, un modo concreto e costruttivo per far avvicinare il mondo giovanile a quello delle istituzioni.